blob blob cresceva aveva tutto e tutto era l'occasione perfetta per credere di non avere niente tutto intorno a blob appariva grande ma più blob cresceva e più le pareti del suo tutto lo schiacciavano lo soffocavano nel suo stesso essere blob pensava ma blob non sapeva non riusciva a credere che l'universo attorno a sé in realtà non esistesse se cresceva dove cresceva se desiderava cosa desiderava se viaggiava dove andava se discuteva con chi parlava allora blob pensava tutto questo esiste e il nulla è un'illusione no pensavano le illusioni blob sei tu che non puoi comprendere in quei momenti blob non capiva e si disperava si disperava perché non capiva si interrogava blob si domandava circa ogni cosa circa ogni aspetto dell'esistenza circa ogni essere che avesse fin lì incontrato e con cui avesse scambiato e non capiva allora blob si arrabbiava con le illusioni le insultava le denigrava e ancor più si infuriava non vedendo in loro nessuna reazione le illusioni se ne rimanevano serafiche ad osservarlo piangere grosse e copiose lacrime le lacrime cadendo allagavano quasi soffocavano l'io profondo di blob blob non piangere gli ripetevano le illusioni piangere non ti aiuterà allora blob smise e ascoltò le illusioni e dunque perché posso farlo posso piangere le interrogò blob se non serve se non aiuta perché tu possa mantenerci in vita gli risposero le illusioni ma voi non esistete insisteva cocciutamente blob se il tutto esiste e il nulla è solo immaginazione o il contrario come posso mantenere in vita le illusioni blob non capiva noi non siamo le illusioni gli spiegarono noi siamo le tue illusioni era in quei momenti che blob adirato voltava loro le spalle e cercava conforto nel resto del mondo l'universo è così grande piccolo blob si ripeteva il cielo è così bello e luminoso la terra così dolce e colorata blob si decise per esplorarli blob andava felice per il mondo esplorava e sempre di più voleva sapere conoscere tutte le zone e tutti gli abitanti voleva convincersi blob che nulla non esistesse ogni volta che provava a voltarsi indietro blob trovava solamente le illusioni assopite sul suo dorso provava a non svegliarle se non quando era ora di mangiare le illusioni si nutrivano e blob si nutriva di loro ormai erano in viaggio da molto e blob contento del mondo non si curava più dell'inconsistenza dei suoi pensieri sapeva blob di essersi lasciato alle spalle tutto quanto aveva visto tutto il conosciuto portava tutto con sé tutte le sue esperienze a volte le illusioni e le esperienze litigavano tra loro accusavano blob di pigrizia e cecità è pericoloso gli spiegavano quello che tu fai ma blob non voleva credere blob cresceva sempre di più cresceva e accresceva le sue esperienze e le sue illusioni e pretendeva di continuare si chiedeva blob come le illusioni e le esperienze non potessero andare d'accordo le vedeva ci discuteva alle volte ci giocava non pensate chiedeva loro blob che il solo fatto di essere qui a parlare a discutere faccia di noi delle entità supreme no gli rispondevano le esperienze troppo ancora dobbiamo peregrinare per discendere dai monti sì gli rispondevano le illusioni sì e no gli precisavano suprematisti siamo l'essenza suprema dell'immateriale blob era confuso dalle due la non materia vanifica le esperienze e blob non l'aveva ancora incontrata e non se ne fidava loro tre erano seduti l'uno sull'altro a discutere erano lì era evidente come non ci fosse spazio alcuno per l'immateria senza spazio per l'immateria si chiedevano le esperienze come possiamo credere a tutto ciò che abbiamo visto e creduto le esperienze ne furono molto affrante al punto che ne piansero e un pianto soffice e delicato che lentamente le consunse disciogliendole sul dorso di blob blob si rammaricò ma sapeva essere comunque le esperienze una parte di sé non così le illusioni che pur sedendo loro vicino non ne furono toccate adesso abbiamo spazio per l'immateria si rallegrarono le illusioni ma suppose blob se l'immateria non è non potremo non potremo accoglierla con noi ma essa è diversa dalle cose dissero le illusioni le esperienze si erano portate via con loro la materia nel pensiero di blob vi era ora solo la contrapposizione di due supposti che non capiva le illusioni crescevano in blob cresceva la coscienza di una nuova esperienza che gli portava angoscia blob non poteva vederla per quanto si girasse e rigirasse essa era ai suoi occhi sfuggente inarrivabile ma blob capiva che se cresceva e cresceva le illusioni si andavano pian piano indebolendo sempre più finché ormai smidollate della loro possibilità di reazione consunte dal di fuori e dal di dentro anch'esse si dissolsero sparendo all'interno di blob blob dormiva quando le illusioni se ne andarono le cercò le chiamò le illusioni non risposero angoscia era felice e blob ne fu permeato fu pervaso fino al punto di crisi allora angoscia sparì così come era venuta per un attimo blob si sentì sollevato dal mondo blob si girò e si rigirò le esperienze le illusioni l'angoscia tutto sparito si guardò indietro il mondo conosciuto era un buco nero terrorizzato blob cercò di scappare ma in ogni direzione era solo il nulla ma il nulla era innocuo era ovunque lo circondava non gli parlava e non voleva nulla da lui ma blob non aveva più la possibilità di crescere senza niente da assorbire allora blob cominciò ad assorbire se stesso fino a quando sparì nel nulla c'è un po' di nessuno è vero che cosa si guarda la prima cosa èva? non ti ho pensato ma con i spionati e bisogna con i spionati non ti ho pensato ma non ti ho pensato non ti ho pensato non ti ho pensato Grazie a tutti